bella a tutti ragazzotti in amorfiziano, si prendiamo un'altra Aram con ragazzi italiani abbiamo Luca388 ciao ciao Luca poi abbiamo un italiano, ciao Turks ricordate non sono turco e abbiamo Rocco99 bene 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 non è quasi chiamata ma è chiamata solo con me abbiamo Rocco stardo volevo saltare tanto di cappello ora mi fai saltare voglio saltare c'è troppo veloce sì ma perché Rocco ha già ingaggiato perché Iori esattamente non ha colpito nessuno Rocco un commento su questo engage è stato utile secondo le priorità dietro presa di poru di poru gradisco ha colpito qualcuno colpito no mi segue non so se lo sapete ma io ho gli occhi quindi chiate la sto usando per me oddio lag io ho capito soltanto affronta al vento io ho appena sono andato su misforzo e non l'ho lagato non direi che grandissimo culo e sono P anche Gojob da parte di Rocco voglio trasformarmi voglio trasformarmi guarda in qua eh si adesso ma non ho visto nemmeno la vita è sceso troppo velocemente velocemente lo so che ti sa velocemente l'ho visto ma almeno io ho tirato mi sforzo perché sono uscito chi sono i guardiani? su questo mondo ragazzi chi sono i guardiani? c'è un tizio qui congelato spettro che mi ha detto che dovrei salutare l'abito se i guardiani dovrebbero tornare ma io non so chi sono salto non lo so chi sono i guardiani no! boomerang! boomerang torna qui eh i guardiani forse intende la battaglia del mezzo ah ho capito ho deciso un video mi sento più quindi penso esci mi serve mana lissandra e se giovanni la smettete di ingaggiare il tank che non è tank engage miss fortune ok no ciao ma ciao che grandissimo non mi blocca il boomerang o qualcosa me lo fa tornare indietro che cosa bellissima gli scorsi di gnar sono sempre interessanti callano un maca allora io chiunque passerà di qua lo stunnerò e lo ingaggeremo ciao 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 ecco evviva gnar è troppo per il momento poi verranno a fallo no 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 ho calano un maca ma mi ha capito un po' di pozzi anche io mi diverto quando dico sciupana aiuto c'è una munghia aiuto che non era paura no 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 quanto se il demo la mia ulti qua forse non è la più utile al mondo perchè è utilissima arrivi dalla base in lane in mezzo secondo poi del resto è inutile eh luca rocco ti manda a quel paese eh io lo lovo con tutto il mio amore e lui ti roba con tutto il tuo amore l'ulti migliore del mondo è bellissimo stun oddio bene inglesi sotto torre avanti si un grande bene io faccio la torre 135 ragazzi che stanno giocando e due morti sono miei vabbè ma perchè io mi butto a kamikaze cioè tipo io sto a fare 010 io 317 no io 527 e non vado nemmo no no questa è colpa voglio una kill agamo hai volto kill ok 327 8 3278 sì sono morto anch'io perché noi siamo maestri del buttarci a kamikaze uga mani massa io sento sento che sento che lo gli ori che è morto allora lui pensa che lo gli ori è morto uè ciao salutami tuo zio perché salutami tuo zio è da così poi si scopre che Rengar è lo zio di Gnar tipo si torturano a morti tipo ehi aspetta ma tu sei mi mi vuole tipo però non si può fare a meno di ingaggiare il tank perché lui che ingazzia quindi ti viene voglia di uccidere proprio è colata anche io so saltare aia a tu no sono vivo come ho fatto sei morto sei appena morto quello è il tuo fantasma ricordatelo si si giusto non capivo infatti mi ero appena trasformato e tipo questo non lo sapevo e poi tipo ah giusto iori qualcosa brutto ticcioso non toccate la torre kamikaze hai tipo distrutto mentalmente a caldo poverino povera ragazza gli sforgi una un ulti di gangplank in miniatura però che quella di gangplank serve solo per rallenare questa qualità sono cieco vai andate piccoli fantasmini di rock ho capito il mio scopo boomerangare tutti e tutto ancora non hai capito focus oh oh via 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 please please via mi sta trasformando e quando si sta trasformando sono molto attista cioè guardatelo no guardatelo ragazza aiuta perché a cali è diventato genio e che facevo genio è lo stesso rocco chiede cosa diavolo stiamo facendo cazzeggiando dicci così cazzeggiando stiamo cazzeggiando rocco anche risposto con una voce è stata l'ha detto a morfe non luca penso di aver caso sono arrivato a moro a mi leggere il pensiero ma se tu dovresti fare le imboscate tipo c'è qualcuno qui e tu tu boom con l'ultimo tu non va più lì ma sono lento perché perché siete tutti ah no siete oddio la lancia il mare quanti danni non so nemmeno io che sto combinando ma voi avete capito qualcosa io tecnicamente quella tecnicamente quella era la mia penta vabbè io la cosa che ho capito è stata doppia uccisione doppia uccisione carne vicina no la mia casa adesso se facciamo sentire il mio picco del mouse io mi so fermato ho detto questo e me lo faccio cagare addosso che genio veramente che genio era tuo aiuto a me mi hanno astrunnato troppo perché non fate saltare il piccolo gnarr piccolo gnarr almeno non gli prendo le polze genarvi voleva bene noi no voleva 5 4 3 2 1 vai no pensavo di saltarti in testa bombe a mumu l'hai tipo e scredici il tuo patriotismo ci dà molto fastidio perché sempre gnarr che ha fatto di male è cuccioloso a mumu a mumu a mumu a mumu rocco vai vai fantasmino rocco non giocherò mai più con te Luca rocco dice Luca rocco dice ok basta mi sto confondendo io non messaggio più eh messaggiatevi su messaggiatevi su su whatsapp con te con te anzichetta abbiamo pantheon possiamo vincere adesso guarda sono così sicuro che con te possiamo vincere che mi ritirerai anche in base sei grande perché vedi io sono la forza NANI UN FUGARAN beh ok bene ci stiamo noi che bello la codia mia ti distruggolamente se non uccidi perché non è così veloce rocco e soprattutto si era disinvisibile non penso che poter lui calma che cazzo stai al di calma allora se io andassi la con la ulti che succederebbe che probabilmente arriveresti prima di me mi sporti un ingegno ma guarda la che genio che ti fa prendere dal mio stun andiamo master aspettami no totoff smettila di stillarmi in minium per saltare aiuto 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 che aiuto sei di grande aiuto luca ho lanciato un boomer anche che altro vuoi no no casita ok ho preso la mia casita su casix è morto ciao ciao go double in ci arriverò fosse l'ultima cosa che faccio non ci sono arrivate che genia guarda miss fortune si è più genia di 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 luca di luca di luca l'ho ucciso aaaaaaah non è giusto bulli lì dobbiamo almeno le torre ci vedete di grandissimi tutti quanti morti odio non vincete senza di me però siete di grande aiuto mi stai seguendo khajix no tranquillo ho fatto tutto io ragazzi ora potete vincere ok io faccio il che spieghi dalla giungla dalla giungla di aspetta io posso fare x spake ho la ulti ok no c'è l'inibitore non posso che bella avere la di carry e fare il supporto vero? si non farmi vedere probabilmente mi ha visto che 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 ha visto possiamo vincere l'ha colpito e aspettate a me possiamo fare una grande culata di toni bombe ok non faccio più danni io come al solito quello che la kill va al rock è per questo che è dei pentach nooo non lo volevo uccidere fatevi l'inibitore il mio click mi salverà la vita una zarda deve avvincere senza di me nooo non lo faremo mai tranquillo non ci riuscirete mai c'è kazix kazix uccidili tutti bene 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 ragazzi la mia zona di atterraggio bene ragazzi ringrazio rocco 99 luca 3 8 8 un ringraziamento per te rocco da parte di morf ringrazio anche l'italiano l'italiano medio di turcs oh ma per me non è italiano beh spero che la prossima volta sarete un po' di più aggiungete i vostri amici ci conto ci spero quindi ragazzi da morfixiano è davvero tutto alla prossima ciao belli